Allora, bentornati a tutti. Come già annunciato, queste due settimane le dedichiamo a fare un po' di esercizi d'esame. Io ne ho approfittato per aggiornare questa mattina tutti i testi d'esame che si trovate sul sito, quindi adesso dovrebbero essere completi. Quindi andiamo in ordine cronologico partendo dagli ultimi. Penso in queste due settimane di riuscire a fare almeno due temi di esercizi d'esame completi, perché ovviamente ci vuole un po' di tempo a farli insieme raccontandoli. E partiamo quindi, l'ultimo in ordine di tempo, l'ultimo appello è quello che abbiamo svolto durante l'anno, l'hackathon, e quindi andiamo a quello precedente, che è un testo del 18 settembre. 2017, che tra l'altro nessuno dei vostri compagni ha fatto, perché a settembre, se ricordate che c'era lo sciopero, per cui il primo e il secondo corso sono stati separati in due esami diversi, erano due testi diversi. Quindi è un testo che è stato fatto solamente dai vostri colleghi del secondo corso, non del primo. Non che cambi molto, perché tanto voi non l'aveste fatto comunque. Allora, ma il testo è dello stesso tipo di quelli che abbiamo. Quindi io partirei da leggere il testo e poi svolgiamo in ordine i punti che ci sono richiesti. In questo caso, in questo appello, venivano richieste quattro cose. Il modello informativo concettuale, il modello di processo, il modello di casi d'uso e i mock-up relativi a un determinato caso d'uso. Queste prime due domande ci sono sempre e sono sempre uguali. Per qualunque testo troverete che il modello informativo concettuale, cioè il diagramma delle classi, e il modello di processo, cioè il diagramma delle attività, sono sempre richiesti. Le altre due domande si possono alternare sui quattro argomenti possibili, che sono il modello di casi d'uso, la narrativa di casi d'uso, tre KPI significativi e il mock-up dell'interfaccia utente. Di questi quattro argomenti, due ne capitano solo per appello. Vi ricordo che sulla valutazione complessiva del compito da questo esercizio, la parte 1, vale 27 punti, a cui si aggiungono 6 punti, quindi il totale fa 33, delle domande teoriche che ci sono nella parte 2. Tra le domandine che coprono la parte teorica, che di fatto sono ciò che abbiamo raccontato sulle slide, c'è sempre una domanda a risposta chiusa, cioè sono due domande a risposta chiusa e una risposta aperta. Delle domande a risposta chiusa ce n'è una a risposta singola e una a risposta multipla. C'è anche la leggenda che dice che il pallino tondo significa una sola risposta, pallino quadrato, no scusate, quadrato non pallino quadrato, il quadrato significa tutte le risposte corrette che possono essere 0, 1, 2 o 5. Quindi due punti, due punti e due punti per la risposta aperta. L'unico commento che mi viene da fare è, sulla domanda 3 ci sono 5 o 6 righe che sono un incentivo a non scriverne 20, ok? Magari neanche scriverne una sola, però il livello di dettaglio cercate di essere sintetici, schematici il più possibile. Andare al punto, se ti si chiede A, non raccontare B, C, D, E, perché tanto sono parenti, no? Non conta niente, è solo una perdita di tempo. Ok, ma veniamo all'esercizio in quanto tale. Quindi 27 più 6 punti e l'ultima cosa, visto che parliamo dei punteggi, i punteggi dei quattro esercizi, dei quattro sottoesercizi, non sono uguali, ovviamente. Tipicamente i punti più impegnativi sono quelli che danno più punteggio. Quindi ad esempio il diagramma dei casi d'uso, tendenzialmente rispetto al modello concettuale, rispetto al modello di processo è più semplice, più veloce da fare, quindi assegna un punteggio minore. Non dico i punteggi dei vari sottoesercizi perché in realtà lo decido con piccoli ritocchi, diciamo, li decido durante la correzione, a seconda anche magari a volte ti scappa la domanda un pochino più facile, un pochino più difficile di quanto non pensavi, te ne accorgi solamente quando hai la carta in mano. Però come principio generale i punti più complessi sono quelli che danno più punti. Ok, ma veniamo al merito. Allora, qui parla di un ristorante che decide di lanciare un servizio mangia a casa, ne sono nati come funghi in quest'anno, che prevede l'ordine di piatti online e la consegna a domicilio. Ogni cliente registrato, leggiamo in modo neutro, poi andiamo a riprendere le parti che ci interessano, ok? Ogni cliente registrato può collegarsi al sistema tramite web o app e scegliere da un menu i piatti che vorrebbe ricevere per comporre un ordine. Per ogni piatto il cliente può vederne il nome, la foto, una descrizione, gli ingredienti, le indicazioni sugli allergeni, informazioni nutrizionali e il prezzo. Inoltre, per ogni piatto è noto il tempo di preparazione. Per ogni cliente, oltre a nome, cognome, email e telefono, è noto l'indirizzo di casa, che permette di calcolare tramite servizi esterni il tempo di trasporto stimato, oltre che aggiungo io di portarglielo effettivamente a casa, visto che ci la consegna a domicilio. Quando un ordine è stato completato, il sistema mostra il costo totale e il tempo stimato di consegna va dato sui tempi di preparazione dei piatti contenuti, il carico di lavoro corrente della cucina, che funziona nel numero di piatti attualmente in preparazione, e il tempo di trasporto. Il cliente può confermare l'ordine e quindi procedere al pagamento tramite carta di credito. Dopo che il pagamento è dato buon fine, l'ordine può essere passato alla cucina. Quando il personale di cucina prende in carico l'ordine, il sistema invia un messaggio al cliente comunicando l'inizio della preparazione e fornendo una stima aggiornata del tempo di consegna. Quando, passo ancora successivo, il personale di cucina consegna i piatti al reparto consegne, il sistema invia un messaggio al cliente comunicando la spedizione e fornendo una stima aggiornata del tempo di consegna. Il personale ha detto la consegna, quando ha affidato i piatti al cliente, segnala la conclusione dell'ordine. In qualunque momento il cliente può collegarsi al sistema e conoscere lo stato, le proprie ordine e il tempo di consegna previsto. Relativamente lineare questo testo, questo compito. Allora, partiamo dal modello delle classi, il modello concettuale, cercando di mentalmente separare quelle che sono le informazioni gestite dal sistema da quelli che sono i processi attraverso cui il sistema le sta gestendo, processi i quali invece andranno descritti poi nel modello di processo, nell'Activity Diagram. Quindi dell'informazione che abbiamo letto qua, cioè del testo che abbiamo letto qua, c'è una parte che ha a che fare con quali sono i dati che il sistema tratta, è quella di cui ci dobbiamo occupare adesso, e ci sono delle frasi, delle affermazioni, che invece descrivono come questi dati vengono trattati. E di questo ci dobbiamo occupare in seguito, non dobbiamo mescolare i due aspetti. Allora, conviene partire identificando le classi principali di questo sistema informativo. Quali sono i dati principali di cui il sistema informativo si occupa? Ma direi che i principali sono riassunti in queste righe. Abbiamo l'evidenzio un ordine, un cliente, dei piatti, l'ordine è fatto da piatti. Il menù? Forse non lo sappiamo. Boh, proviamo a scriverlo in giallo, in arancione, che come dubbio. essenzialmente abbiamo clienti che fanno ordini e gli ordini sono composti da piatti. Il cuore è questo. Tutte queste scritte, il cliente può vedere il nome, la foto, la descrizione, eccetera, sono tutte informazioni legate al piatto. Queste sono informazioni legate al cliente. Più complicato, invece, è capire cosa dobbiamo estrarre da questo paragrafo di testo, dove parla del tempo di consegna, la preparazione, eccetera, eccetera. Allora, la maggior parte di queste sono informazioni di processo. Che dicono che il sistema fa una certa cosa e l'utente poi approva e dopo che l'utente ha approvato deve pagare, dopo che ha pagato la cucina inizia a lavorare, eccetera, eccetera. Quindi una serie di azioni che viene compiuta, ma i dati sono sempre gli stessi, cioè l'ordine di cui stiamo parlando è sempre lo stesso, sempre lui. Quindi qua non creo, non ho bisogno di classi nuove a prima vista almeno, poi magari andando nel dettaglio salta fuori qualche cosa. ma ci fa vedere, ci racconta come evolve diciamo l'informazione che è contenuta nella classe ordine. Una cosa però dovremmo sicuramente tener conto di tutta questa pappardella su come viene gestito l'ordine è che un ordine può essere in vari stati di avanzamento. a me quando ho letto per la prima volta questo testo il campanello che mi è saltato è questa parentesi. Funzione del numero di piatti attualmente in preparazione. Cioè come faccio a sapere quanti piatti sono in preparazione? Allora, leggendo questo testo mi sono chiesto come faccio a saperlo? E dovrò tenere traccia tra tutti gli ordini che sono stati fatti quali ordini sono già stati confermati pagati e quindi in preparazione ma non ancora consegnati. Quindi in qualche modo la classe ordine che era su ha due tipi di informazioni. Uno è di che cosa è composto l'ordine cioè quali piatti e l'altro a che punto siamo con la preparazione di quell'ordine. lo stato di avanzamento. Allora, proviamo a mettere in bella questi ragionamenti. Quindi creiamo un nuovo diagramma delle classi che chiamiamo come si chiama sta roba qua? Mangia casa tristissimo nome dove abbiamo detto la classe cliente o cliente registrato ovviamente sono la stessa cosa la classe ordine e la classe piatto sono i tre punti di partenza. Allora, perché ci serve una classe cliente? Abbiamo messo la classe cliente perché il sistema informativo ha bisogno di informazioni a proposito del cliente ha bisogno di gestire deve gestire delle informazioni a proposito del cliente ok? Perché il sistema informativo sa delle cose a proposito di questo cliente da non confondere con affermazioni del tipo dove è andato? Il cliente può confermare l'ordine una frase del tipo il cliente può confermare l'ordine come quella che c'è scritto qua non richiederebbe una classe cliente perché qua in questo caso il cliente è inteso come l'attore che fa una certa azione ok? e quindi non è necessario che gli attori del sistema siano rappresentati da classi nel modello concettuale possono esserlo se su quegli attori il sistema informativo deve gestire alcune informazioni in particolare qua è anche detto chiaramente che ci serve in particolare l'indirizzo di casa quindi sono informazioni che il sistema servono quindi solo per il fatto che un'entità sia un attore del sistema non merita tra virgolette una classe per sé solamente se questa classe contiene dati informazioni che sono utili al sistema allora di quali informazioni partiamo da cliente a questo punto già che ne stiamo parlando quali informazioni abbiamo a proposito del cliente nome, cognome mail, telefono e l'indirizzo di casa beh questo è facile ci hanno già detto tutto quindi nome che è una stringa il cognome che è una stringa l'email che anche là è una stringa telefono telefono stringa e infine indirizzo di casa vabbè tutte informazioni di corredo di questo cliente si avrà anche una login una password ma le informazioni sull'autenticazione noi le lasciamo fuori andiamo per scontate non sono informazioni che saranno per entrare nel sistema poi una volta che sei dentro il sistema non ti interessano più ok? allora questo cliente può comporre degli ordini allora cos'è per noi un ordine? quali sono le informazioni che descrivono un ordine? un ordine è fatto da qualcuno da un cliente è fatto contiene dei piatti e queste sono informazioni che rappresenteremo tramite relazioni relazione cliente ordina e relazione ordine piatto poi di un ordine probabilmente vorremmo sapere quando è stato creato quindi la ora di creazione creato date time scriviamo così data e ora in cui quest'ordine è stato creato e come minimo ci interessa sapere qual è lo stato di avanzamento di questo ordine lo stato di avanzamento di un ordine poi ci torniamo ci dice vediamo se è un int una stringa o un'altra cosa è un'informazione che ci dice se questo ordine a che punto è in lavorazione ci serve per conoscere tutta una serie di cose tipo quanti piatti ci sono attualmente in lavorazione nella cucina allora devo andare a prendere tutti gli ordini tutti i piatti relativi a tutti e soli gli ordini che sono attualmente in lavorazione ok e poi ci sono i piatti questa relazione tra cliente e ordina può essere una relazione ordina il cliente ordina un ordine scusate la ripetizione e l'ordine contiene i piatti la relazione tra ordine e piatto potrebbe anche essere rappresentata se lo volessimo con una relazione di composizione i piatti sono parte dell'ordine di questo tipo dove sono andate di questo tipo quelle che terminano col rombo ecco disegnarla meglio perché di fatto l'ordine è composto dai piatti sono le parti dell'ordine quindi potete fare in entrambi i modi l'importante è mettere giuste le cardinalità allora cardinalità tra cliente e ordine ogni ordine ha un cliente solo relativa a un cliente solo colui che l'ha ordinato esattamente un cliente non può esistere un ordine senza cliente e non può esistere un ordine con più di un cliente il cliente viceversa potrà fare invece molti ordini diciamo zero asterisco perché magari appunto lui si è appena registrato non ha ancora fatto nessun ordine e poi può in giorni diversi presumibilmente fare ordini diversi poi tra ordine e piatto allora chiediamoci cos'è un piatto e qui è una domanda che dobbiamo farci sempre un piatto è il piatto di spaghetti o è questo piatto di spaghetti se io in un giorno preparo 100 piatti di spaghetti avrò un oggetto di tipo piatto che rappresenta il piatto di spaghetti la voce generica del menu oppure ognuno di questi piatti di spaghetti avrà un oggetto singolo che lo rappresenta sono due modi diversi di pensare ok la domanda dobbiamo farcela sempre sto rappresentando adesso astraggo un po' rispetto all'esercizio sto rappresentando un prodotto generico o sto rappresentando le singole istanze di quel prodotto allora in questo caso come faccio a distinguere? beh innanzitutto la domanda più semplice da farsi è rispondersi per capire se sono in un caso o nell'altro e chiedersi quanti sono quando vengono creati questi oggetti da CRI da chi quanti ce ne sono quali sono fammi un esempio adesso noi qua stiamo facendo un diagramma astratto generico ma in testa dobbiamo darci degli esempi allora esempi di cliente io posso pensare a Giuseppe Antonio Francesco e che Giuseppe abbia fatto tre ordini uno lunedì l'altro martedì l'altro mercoledì è che in quell'ordine cosa conteneva? se Giuseppe lunedì ha ordinato gli spaghetti e Antonio martedì ha ordinato gli spaghetti hanno ordinato tutte e due la stessa cosa o due cose diverse che poi sono dello stesso tipo sono due modi diversi di rappresentare le stesse cose in un caso il piatto che è il caso più semplice e qui è sufficiente rappresenta il piatto generico quindi vuol dire che parliamo di cardinalità un ordine sicuramente potrà contenere più piatti almeno uno da uno a molti piatti ogni piatto inteso come piatto generico potrà essere contenuto anche in più di un ordine cioè o più di un cliente che ordina quel piatto lì è ovvio che questa molteplicità ha senso zero molti perché sto pensando che il piatto sia un piatto generico se fosse questo piatto di spaghetti qua questo è mio non è anche tuo ma in generale gli spaghetti è un piatto che viene ordinato da me e anche da te ok l'alternativa quale sarebbe l'alternativa sarebbe di avere una classe in più quindi fatemi fare un altro diagramma alternativo in cui ci metto lo stesso ordine ci metto piatto togliamo per un attimo questa relazione e direi che tra ordine e piatto ci metto ancora un'altra classe che adesso non so come chiamare porzione e allora in questo caso direi che il mio ordine è fatto di tante portate dai non porzione portata il mio ordine è fatto di tante portate una molte e ciascuna portata è relativa al mio solo ordine c'è il piatto di spaghetti numero 206 che è relativa all'ordine 18 fatto ieri a lunedì alle ore 20 e 30 poi è ovvio che queste portate dovranno essere di un certo tipo di un tipo di piatto ben preciso cioè il mio ordine è fatto di tre portate la prima portata sono gli spaghetti la seconda portata è il pollo arrosto la terza portata sono le patatine quindi questo tipo di piatto può essere usato più volte per creare portate diverse da inserire in ordini diversi portate diverse ciascuna delle quali sarà inserita in un ordine solo allora abbiamo una rappresentazione su due livelli una classe generale piatto e una classe specifica portata da cosa capisco se generale o se specifica lo capisco ad esempio da questa cardinetta qua questa portata è privata di un ordine è una classe è un'informazione privata solo di quell'ordine lì non è condivisa tra altri ordini quella portata è di quell'ordine mentre nell'altro caso un determinato piatto può comparire in più ordini diversi mentre in questo caso una portata compare in un solo ordine ma portate diverse di ordini diverse possono essere relative allo stesso piatto e questo ce lo dice questa cardinalità allora quale delle due forme è più adatta e dipende essenzialmente dalle informazioni se e quali e quante informazioni abbiamo da gestire a livello di dettagli che informazioni abbiamo qua cioè come faccio se io ho due piatti di spaghetti a distinguere qual è dell'ordine 1 e qual è dell'ordine 2 o qualche elemento che mi permette di distinguere o per cui io li voglio poter distinguere in base al testo che abbiamo appena letto no ok quindi qua non avrei sarebbe una distinzione artificiosa io compro un pacco di 10 matite e a ciascuno la chiamo per nome come il pastore e le sue pecore non sono tutte uguali ognuno ha un nome e una sua specificità e allora mi serve distinguere se invece li tratto come oggetti o entità indistinte non mi serve necessariamente avere questo oggetto nel mezzo c'è una domanda lo so la domanda è per sapere quanto è impegnata la cucina io devo sapere sto ripetendo devo devo sapere quanti piatti sono attualmente in preparazione ma lo so anche qui perché io posso prendere tutti gli ordini che hanno lo stato in preparazione e contare quanti piatti sono contenuti nell'insieme di questi ordini quindi se ho un ordine che contiene un piatto di spaghetti e un altro ordine che contiene un piatto di spaghetti un solo ordine e cinque piatti di spaghetti ottimo ci manca un pezzo allora quello che sta dicendo lei dice come facciamo a gestire un ordine che abbia più di un piatto dello stesso tipo ma in realtà anche qui o meglio qua potrei se io avessi tre piatti di spaghetti creare tre portate tutti e tre del tipo spaghetti però starei facendo un lavoro in cui creo tre oggetti distinti preparo tre piatti e dopodiché non ho nessun criterio per dire quale di quei tre piatti che ho preparato è il primo o il secondo o il terzo di questi oggetti cioè sto dando una sovrainformazione sto inventandomi delle informazioni che in realtà non c'è a me serve però sapere giustamente quanti piatti sono stati preparati dove la metto quanti piatti di ciascun tipo sono stati ordinati non preparati scusate dove la metto questa informazione nella relazione nella relazione tra ordine e piatto quindi in realtà questa relazione non è solamente contiene ma dovrebbe essere un association class contiene che ha come attributo almeno la quantità e le cardinalità sono sempre le stesse 1 fatti vedere allora di qua c'è 0 molti e di qua c'è 1 no scusate 1 molti quindi un ordine contiene quantità 2 di piatti di spaghetti quantità 1 di pollo arrosto e così via anche nell'altro caso sarebbe più utile anche qua se volessimo indicare la quantità metterla nella portata oppure creare più portate uguali allora nel nostro esercizio la soluzione migliore è questa più adeguata è questa ma così è scopo di ragionamento se la soluzione dovesse essere questa parliamo degli attributi dove lo metto il prezzo vi dico degli attributi di portata o di piatto e voi mi dite se sono in portata o in piatto il prezzo voce piatto la foto dipende se è la foto generica pubblicitaria del menù in piatto se invece queste nostre sono creazioni artistiche delle torte super artigianali allora ci vuole la foto di quella specifica e allora la metto in portata però nel contesto del mangia casa ovviamente sta in piatto le varianti tipo poco salata non piccante senza cipolla qui ho due modi o all'interno di piatto creo tutte le varianti possibili immaginabili oppure collego alla classe piatto una classe variante in cui metto le varianti e poi collego dico quali varianti sono ammesse oppure poiché non posso prevedere la fantasia dei miei clienti le varianti saranno indicate con un'annotazione specifica dentro la portata giustamente dentro la classe portata perché è relativa a quel piatto io posso avere tre piatti di spaghetti ma uno lo vuole senza parmigiano l'altro lo vuole senza pomodoro l'altro lo vuole senza spaghetti chi crea un nuovo oggetto di tipo portata l'azione di quale attore fa sì che si creino nuove portate del cliente l'azione di quale attore fa sì che si creino nuovi piatti il cuoco il gestore del ristorante quei piatti lì non cambiano se non viene cambiato il menù giusto? io posso solo scegliere tra quelli che ci sono quindi se vi chiedete queste domande quanti ce ne sono quando vengono creati che informazioni hanno vi aiutano a separare quello che è una cosa relativamente immutabile e lì non cambia mai un'informazione generale da quella che è un'informazione di lavoro creo, distruggo, aggiungo, tolgo man mano che vado avanti mentre il sistema lavora ok? allora in questo caso non avendo informazioni utili a questo livello qua ci accontentiamo della soluzione più semplice non che l'altra sia sbagliata ma è inutilmente più complessa ci sono dei casi in cui è sufficiente parlare così ci sono dei casi in cui è necessario invece avere una modellazione sui due livelli generale e particolare il prodotto l'oggetto questo è un problema che negli vari esercizi è sempre saltato fuori nei voli aerei nella lista nozza in questi vari esercizi che abbiamo visto durante l'anno c'era sempre questa dualità a volte non vi è saltata all'occhio però ricordatevelo sempre almeno di farvi queste due o tre domande per accertarvi di non dimenticare dei pezzi va bene a questo punto possiamo provare ad aggiungere avendo chiarito che cos'è per noi il piatto possiamo provare ad aggiungere gli attributi che dicono che ogni piatto il cliente può vedere il nome la foto la descrizione gli ingredienti allergeni informazioni nutrizionali e prezzo e tempo di preparazione qui distingue tra il cliente può vedere certe cose e è noto è noto vuol dire che il sistema informativo lo deve sapere ma magari non viene mostrato all'utente allora nome, foto, descrizione viene nome, string foto foto mettiamo immagine no, cosa ho fatto? nome invio foto, image poi aveva la descrizione che è un testo prezzo che è una valuta e poi tempo di preparazione che è un numero ad esempio in minuti ho lasciato fuori le altre tre perché volevo ragionarci un secondo ho messo le informazioni più semplici queste sono tutte informazioni semplici perché ciascuna di esse è un dato solo un numero un testo una frase un'immagine una descrizione le altre descrizioni le altre informazioni perdon gli ingredienti indicazioni sugli allergeni informazioni nutrizionali sono scritte al plurale a parte come sono scritte sono plurali perché dato un piatto gli ingredienti sono più di uno gli allergeni possibili sono più di uno informazioni nutrizionali non so bene cosa voglia dire ma tipicamente può rappresentare l'etichettina che vediamo su alcune scatole che ti dice quanti carboidrati ci sono quanti grassi quanti zuccheri eccetera eccetera allora ciascun piatto non ha un ingrediente ma ha più ingredienti quindi gli ingredienti non possono essere un attributo di piatto sono obbligato a metterli in una classe separata con una relazione uno a molti perché ciascun piatto può avere molti ingredienti ok ogni attributo contiene un valore non ha senso avere attributi di tipo vettore di tipo lista di tipo array o altro quindi l'ingrediente di per sé non era una classe che ci paresse importante ma quando abbiamo letto ho detto beh sì le classi sono ordine piatto ma non ingrediente non è saltato all'occhio infatti non è una classe di per sé importante però è un elemento di informazione che compare più volte all'interno di un'altra classe e quindi noi non avendo nei class diagram la rappresentazione di un attributo multivalore per modellarlo dobbiamo ricorrere a una relazione uno a molti con una classe separata e vabbè lo facciamo quindi avremo fatemelo mettere sotto così ho spazio a destra un'altra classe che chiamo ingrediente che avrà ovviamente un nome e un determinato piatto sarà composto di uno o più ingredienti non ci allora questo è il punto di vista di chi vende il piatto del ristorante non è il punto di vista di chi prepara il piatto quindi ad esempio la quantità di questo ingrediente non mi interessa qua quanti grammi di sale ci sono quante grammi di carne ci sono è un dato che non mi serve no? altrimenti dovrebbe essere anche questa una reazione con la classe di associazione nella quale ci sia indicata la quantità o il peso questa cardinalità di qua da questo lato ingrediente verso piatto un determinato ingrediente a cardinalità uno o molti verso piatto un ingrediente può stare in un piatto solo detto male un certo ingrediente specifico di un piatto solo o un certo ingrediente può essere condiviso tra più piatti la risposta è sempre dipende cosa intendiamo come ingrediente se io ho una lista di ingredienti ben definita i miei piatti li comporrò pescando da quegli ingredienti che sono sempre gli stessi e quindi se per fare gli spaghetti ci metto il sale anche per fare il riso ci metterò il sale è la mia scelta se dire ok piatto di spaghetti ingredienti sale lo scrivo sale e poi più avanti risotto ingredienti sale sale ho creato due oggetti due ingredienti che si chiamano nello stesso modo non è un peccato mortale oppure decido di avere un unico ingrediente sale e quindi nell'oggetto pasta avrò una relazione con quell'oggetto sale e l'oggetto risotto avrà sempre relazione con lo stesso oggetto sale quindi metto in comune gli ingredienti comuni a cosa mi serve metterli in comune ha un senso metterli in comune ricordate il primo esercizio che abbiamo fatto con i fiori delle piante no? si dicevano ma se due piante hanno lo stesso prezzo e vabbè hanno lo stesso prezzo avrò due oggetti che hanno un attributo uguale pazienza allora ho due ingredienti che si chiamano entrambi sale ma boh pazienza ho due persone che si chiamano entrambi Antonio vabbè mica faccio la classe degli Antonio non mi serve allora in questo caso mi serve mettere insieme gli ingredienti comuni a vari piatti o non me ne frega niente e sono semplicemente delle scritte che devo aggiungere lì allora chiaro che la soluzione non me ne frega niente è più semplice porterebbe ad avere una cardinalità uno qui per cui se capita è come dire il sale che metto nella pasta non è lo stesso sale fisicamente lo è lo prendo sempre nello stesso vasetto ma non è lo stesso oggetto sale che metto nel riso perché li ho scritti due volte se invece voglio tenerlo insieme mettere una cardinalità qua uno a molti e sottintenda che un determinato ingrediente può comparire lo stesso ingrediente in più piatti questo potrebbe tornare utile ad esempio se volessimo fare una ricerca per ingredienti mette che io sia intollerante a un determinato alimento allora voglio andare a vedere tutti i piatti che lo contengono o che non lo contengono allora in quel caso è importante avere un catalogo fatto bene validato certificato quasi degli ingredienti e di quali piatti contengono quali ingredienti in questo esercizio non mi pare che ci siano indicazioni né in un senso né nell'altro cioè possiamo fare un po' come vogliamo non c'è da fare nessuna ricerca per ingredienti nessun'altra cosa particolare oppure se ci fosse una ricerca del tipo trovami piatti simili allora per piatti simili andrò a vedere quelli che hanno ingredienti simili allora lì è importante andare a far puntare lo stesso ingrediente due piatti che usano effettivamente lo stesso ingrediente e non e non andare a vedere cosa c'è scritto dentro questo nome l'uguaglianza di oggetti non è mai l'uguaglianza dei valori delle stringhe che ci sono scritte dentro perché le stringhe che sono scritte dentro possono essere scritte in 100 modi diversi invece un oggetto o è lui o non è lui se ragioniamo sulle cardinalità quindi in questo caso entrambi le soluzioni per me sono valide per me per questo testo per questo problema rappresentano due soluzioni diverse due pensieri diversi con l'uno molti io sto già mi immagino già un'interfaccia utente in cui quando devo definire il nuovo piatto ho una tendina con tutti gli ingredienti scelgo quale mi serve mentre invece con l'uno mi immagino un'interfaccia utente in cui c'è il campo di testo e scrivo io l'ingrediente a mano perché ogni volta verrà aggiunto un nuovo non mi fa rabbrividire niente l'una niente l'altra soluzione va bene entrando la cosa importante per cui ho speso questi minuti a ragionare su questo è che siate coscienti che state facendo una scelta vi fate la domanda vi date la risposta benissimo se non vi accorgete che vi state facendo una scelta e quindi non vi fate questa domanda rischiate di dimenticarlo un pezzo di non fare un pezzo di ragionamento che potrebbe servire perché in questo caso è indifferente in alcuni casi invece no non è indifferente ok lo stesso vale direi addirittura di più per gli allergeni che è una cosa diversa rispetto a un ingrediente e quindi un piatto contiene allergene chiamo così questa relazione può contenere uno o più zero o più scusate bicchiere d'acqua per fortuna non ne contiene e qua invece sarei fortemente per dire zero molti perché sto dicendo che se ho un allergene ben definito rispetto a cui io sono allergico quello deve essere e se ci sono tre piatti che lo contengono devono essere esattamente quello il fatto che sul risotto ci sia scritto un po' di sale sulla pasta ci sia scritto sale grosso non mi cambia nulla sono due ma il fatto che un allergene io dico questo qua no perché ha questo allergene quest'altra ricetta invece penso di poterla mangiare solo perché quell'allergene è stato scritto in un modo diverso e non è stato riconosciuto che si trattava dello stesso quello è un problema quindi in questo caso non mi piacerebbe vedere un 1 in cui gli allergene sono aggiunti così l'ultima cosa sono informazioni nutrizionali sì dimmi associare allergene a ingrediente non lo so non so abbastanza di chimica degli alimenti per sapere se gli allergeni sono propri di un determinato ingrediente o anche di come viene preparato magari una certa cosa cruda e cotta sono onestamente non lo so il testo purtroppo non me lo dice ma se voi lo sapete cosa abbiamo ancora abbiamo ancora le informazioni nutrizionali le informazioni nutrizionali allora se immaginiamo le informazioni nutrizionali come la chissà se google ci aiuta è una cosa del genere dai sono queste cosine qua che tutti noi leggiamo sempre bene capiamo esattamente cosa vogliono dire ma dal punto di vista del sistema informativo sono una tabella di date quindi a un determinato alimento a un determinato piatto sono legati più attributi ciascun attributo dei valori niente di più specifico riesco a dire quindi immaginiamo di dover memorizzare per ogni alimento una tabellina di questo genere valore energetico proteine, carboidrati, grassi eccetera eccetera con una quantità associata quantità misurata che ne so per 100 grammi o per porzione quindi abbiamo delle proprietà nutrizionali che ciascun piatto ha no perdono ma ciascun piatto ha in quantità diverse quindi qua ci vuole la nostra cara bella classe dell'associazione informazioni nutrizionali in cui un determinato piatto ha più proprietà nutrizionali da zero molte la proprietà mi dà il nome e nella classe dell'associazione ci metto il valore magari c'è il valore abbiamo detto per 100 grammi e poi c'è il valore per porzione tanto per copiare una di quelle tabelline che abbiamo visto quindi diciamo che un determinato piatto come proprietà nutrizionali esempio proteine esempio grassi esempio zuccheri di proteine ha per 100 grammi ne ha 17 quello stesso piatto di grassi per 100 grammi ne ha 40 quindi le relazioni sono da piatto verso proprietà sì zero molti da proprietà verso piatto anche zero molti perché anzi sarebbe uno molti perché la proprietà nutrizionale proteine deve essere espressa su molti piatti diversi ovviamente su ciascun piatto con un valore diverso il valore però ce l'ho nella relazione quindi uno molti ok voi noi come abbiamo modellato qua immaginatevi una grossa tabella un foglio excel le colonne sono i tipi di proprietà nutrizionali quindi la prima colonna è la seconda la colonna B sono proteine la colonna C sono grassi la colonna D sono zuccheri sulle righe i nomi dei piatti e all'interno della casella i valori nutrizionali all'interno di ogni combinazione tra piatto e tipologia di proprietà nutrizionale questa tabella doppia entrata è la relazione molti a molti che abbiamo costruito e in questa relazione a molti a molti c'è un valore per ogni casella per ogni incrocio che è rappresentato dalla classe della situazione ok ci siamo purtroppo dilungati negli attributi di piatto perché purtroppo erano attributi molteplici e ripetuti cioè lo stesso attributo si ripeteva in più oggetti quindi abbiamo dovuto fare questo ragionamento sull'oggetto che è presente in più piatti diversi cosa ci rimane ancora da fare? beh da completare il ragionamento che avevamo accantonato sullo stato allora cos'è sto stato? è qualcosa che mi dice quest'ordine a che punto è arrivato e quali sono gli stati possibili dell'ordine? scriviamolo in brutta allora andiamo a leggere un po' il testo la prima cosa che fa il cliente è comporre un ordine quindi un ordine può essere appena composto chiamiamolo nuovo poi può essere quando un ordine è stato completato il sistema mostra il costo totale il tempo stimato di consegna basato sui tempi di preparazione dei piatti contenuti bla 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 questo è ancora sempre l'ordine nuovo non ancora confermato poi a un certo punto l'ordine diventa confermato poi diventa pagato se segue il testo poi a questo punto l'ordine viene passato alla cucina e quindi diventa in preparazione dopo che è in preparazione è in consegna e infine sarà terminato concluso il testo parla di conclusione quindi chiamiamolo concluso quindi voi immaginatevi di aprire il modello concettuale fare una fotografia al database e vedete dentro mille ordini di quei mille ordini 980 sono conclusi perché sono quelli dei mesi precedenti e dei restanti 20 ce ne sono due nuovi perché ci sono gli utenti che li stanno compilando uno confermato uno già pagato 4 in preparazione e 3 in consegna e man mano che il processo andrà avanti il processo che dobbiamo costruire questo stato viene aggiornato ogni volta ok allora come rappresentiamo questa informazione questo è un attributo che può avere uno solo valore tra una lista ben definita di valori allora o facciamo i buzzurri li chiamiamo 1,2,3,4,5 questi valori e allora ci va bene l'attributo stato intero quindi poi quando tra due mesi dovrei andare a sviluppare il sistema dovrei dire che lo stato dell'ordine deve passare da 4 a 5 cosa vuol già dire cos'è che vuol dire 4 a cosa serve il 5 oppure cerchiamo di mantenere questa informazione dicendo che lo stato non è semplicemente un numerino messo lì ma è una sua classe che rappresenta lo stato di avanzamento dell'attività quindi una classe stato-ordine che contiene la descrizione dello stato e quindi ogni ordine è esattamente in uno stato ben preciso 1 e questo stato-ordine ovviamente può applicarsi a molti ordini posso avere molti ordini in preparazione molti ordini confermati e così via da ordine è stato-ordine con un attributo di tipo stringa è un po' un modo per mettere da parte un attributo che doveva essere mio ma lo metto da parte perché perché voglio che quell'attributo abbia assuma un numero finito di valori non qualunque e quindi in questa classe stato-ordine specificherò quali sono i valori possibili che può assumere quello stato poi se qualcuno è nostalgico della versione buzzurra può anche aggiungere un numero in cui magari chiamiamo proprio questi stati uno nuovo due confermato tre pagato così abbiamo anche l'ordine in cui questi stati si devono succedere e quindi a questo punto nel testo ci chiedeva stima il tempo di consegna basandoti sul numero di piatti in preparazione è tutto qua vado a prendere lo stato in preparazione dallo stato in preparazione vado a vedere quali sono tutti gli ordini che sono in questo stato quindi navigo questa relazione e trovo l'insieme degli ordini per ciascuno di questo ordine vado a prendere tutti i piatti e di questi piatti sommo il tempo di preparazione fine fosse in SQL saprei già scrivere la query in realtà dovrei dividere per il numero di fornelli di cuochi di postazioni di lavoro che ho in cucina perché qui presuppone che faccia tutto in sequenza sommare i tempi in realtà alcune cose possono andare in parallelo ma il testo ci dice di far così quindi l'informazione ce l'abbiamo chiara ok si dimmi allora come attributo di ordine io avrei potuto mettere un attributo numerico come avevo messo prima però avrei perso il significato di quell'attributo lì cosa vuol dire 3 così è più esplicito perché scrivo la descrizione dello stato come stringa che dice che cosa sta succedendo qua allora tu mi dici ma allora nell'ordine potevi mettere la stringa potevi scrivere in preparazione anziché 3 però chi mi dice quali sono i testi possibili che posso scriverli dentro quando viene creato un ordine il cliente non è il cliente a scrivere ordine nuovo N-U-O-V-O ci abbiamo lo sforzo che sto facendo è di esplicitare le informazioni significative che hanno un senso che hanno un significato che servono al sistema informativo per prendere delle decisioni se avessi un attributo qua stato due punti string lo posso scrivere perché subito dopo lo cancello mi verrebbe da chiedermi ma se stato si chiama ci fosse scritto XXXZ cosa vuol dire? è una qualunque stringa ha qualche significato se lui di cognome si chiama XXXZ a me non me ne frega niente va benissimo è un dato che memorizzo ma che non devo capire non ha un significato per il sistema informativo è un dato da gestire da leggere e stampare sulla bolla di consegna questo invece è un dato su cui lui deve prendere decisioni sapere quali sono le cose in preparazione allora devo codificarle in qualche modo queste cose devo codificarle in un modo che sia chiaro a chi deve implementare il sistema chi deve mantenerlo chi deve sviluppare l'interfaccia eccetera allora se io se lo avessi come stringa mi sto fidando che non so il programmatore che mi farà la parte di caricamento dell'ordine e il programmatore che mi farà la parte di gestione della cucina della preparazione dei piatti usino esattamente le stesse stringhe si mettono d'accordo si può fare ma è un rischio peggio ancora se usassi dei numeri usare delle stringhe è ancora peggio perché se un domani volessi fare una versione in inglese del sito avere quelle stringhe scritte dentro in italiano mi dà fastidio allora io cerco sempre di guardare con sospetto ai dati di tipo stringa i dati di tipo testo e di tipo stringa sono cose che devono essere lette inserite stampate a video ma mai usate dal sistema il sistema non deve mai chiedersi questo è uguale a quell'altro confrontando due stringhe per sapere se due cose sono uguali io vado a confrontare se sono lo stesso oggetto o se sono due oggetti diversi e quindi a livello dichiarativo cioè avendo dichiarato già qua nel modello concettuale è impossibile per chiunque creare un ordine con uno stato che non sia uno di quelli che ho previsto nella classe stato ordine è vietato a chiunque di scrivere uno stato sbagliato o di dimenticarsi quale sia il valore numerico da associare allo stato perché ce l'ho qua esplicito legato alla descrizione perché quello che non mi importa non è questa sequenza di sei lettere pagato la potrei anche chiamare così quello che mi conta è cosa significa per me quel significato è un significato di una certa informazione è una classe è un insieme di oggetti ciascuno dei quali ha un significato non è un attributo cioè un di più che aggancio a un oggetto per dare informazione in più per decorarlo in qualche modo non so se sono riuscito a non cadere nella filosofia nel cercare di spiegare allora direi che qua non vedo altro che possiamo aggiungere o che serva aggiungere se non sbaglio il cliente vediamo l'ultima frase il cliente può collegarsi al sistema e conoscere lo stato del proprio ordine e il tempo di consegna previsto allora in realtà questa frase è sbagliata perché dice che il cliente può conoscere lo stato del proprio ordine noi abbiamo invece un cliente che può fare più ordini quindi in realtà la frase vera dovrebbe essere il testo dovrebbe dire il cliente può vedere lo stato dei propri ordini o meglio dei propri ordini non ancora conclusi perché di quelli conclusi magari non ci interessa oppure il testo avrebbe dovuto dirci il cliente non può fare un ordine se ne ha già uno aperto vabbè è una una delle tante imperfezioni e ambiguità che saltano fuori ovviamente nella descrizione a parole noi nella nostra descrizione è chiaro che un cliente può benissimo avere anche più di un ordine contemporaneamente aperto in preparazione o in consegna e il tempo di consegna previsto lo sappiamo anche calcolare perché dato l'ordine il tempo di consegna qual è? è la somma di tutti i tempi di tutti i piatti bla 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 questo tempo di consegna viene usato più volte perché guardate qua il cliente prendiamo un colore diverso se ci riesco vabbè fa lo stesso qua vabbè fa lo stesso teniamo questo si dice mostra il tempo stimato di consegna poi aggiorna il tempo di consegna aggiorna il nuovo tempo di consegna e poi alla fine esegui la consegna e però questo tempo di consegna lo lo devo poter vedere in qualunque momento allora io so calcolarlo questo tempo di consegna però visto che è un dato che uso più volte potrebbe potrebbe ma non lo vedo come un obbligo essere già memorizzato direttamente dentro l'ordine che potrebbe essere una consegna stimata cioè quando all'inizio del caricamento dell'ordine stimo il tempo di consegna faccio i miei calcoli e salvo il risultato lì così se l'utente si collegasse al sito tra un attimo per andare a vedere il tempo di consegna previsto quel dato ce l'ho già ed evito di dover rifare ogni volta i calcoli e se no se non lo salvo dovrò ogni volta ricalcolarlo non è una cosa particolarmente onerosa è solo una possibilità andando a rileggere quella frase che tra molto enfari sul tempo di consegna che viene aggiornato ricalcolato forse può essere comodo salvarselo dentro l'ordine ok allora questo dovrebbe essere a meno di cose che salteranno fuori dopo quando faremo il processo o in questo esercito non sono richieste ma informazioni che magari dovremmo memorizzare per calcolare i KPI a meno di quello queste dovrebbero essere le informazioni essenziali su cui il processo può lavorare la prossima volta lavoriamo appunto sul processo io adesso questo ve lo salvo ve lo carico sul sito così ve lo potete guardare e vi preparate le domande cattive per la prossima volta